Dopo il successo dello scorso anno abbiamo deciso di aprire la stagione teatrale 22-23 del Vanda Capodaglio con uno spettacolo gospel, aderendo alla ventisesima edizione del Toscana Gospel Festival. Protagonista della serata sarà Rodri Gils e il suo gruppo Grace, sei cantanti molto talentuosi che prima di farsi apprezzare in tutta Europa si sono esibiti in luoghi prestigiosissimi, dalla Casa Bianca al Kennedy Center e molti altri ancora. Ci tenevamo ad aprire con il gospel non soltanto per il gradimento del nostro pubblico ma principalmente perché con queste voci si esprime un messaggio di gioia, di pace, di amore, di speranza di cui tutti noi abbiamo bisogno. Sabato 17 dicembre ci vediamo a teatro per goderci una meravigliosa serata e farci gli auguri. Grazie mille a tutti! Grazie.